I dieci anni del Circolo della Stampa di Cosenza, Maria Rosaria Sessa, si inizia festeggiandoli così, con un quadrangolare di calcio e un convegno sulla giustizia sportiva in un'intensa giornata che si è svolta a Camigliatello Silano. Sul campo si sono sfidate le squadre del Circolo della Stampa, del Tribunale di Cosenza, dei Carabinieri e dei Medici, a inaugurare il quadrangolare e gli allievi della Scuola Militare Storica dell'Annunziatella, con tanto di alza bandiera e inno nazionale. Poi l'avvio del torneo, con le squadre che di volta in volta si sono alternate sul campo. E tra cross, falli, gol subiti e mancati, alla fine la vittoria della squadra dei Medici, squadra pluripremiata e impegnata anche in tornei a livello nazionale. Nota di merito va proprio alla squadra dei giornalisti, nonostante una forma fisica non ottimale, in una finale molto combattuta è riuscita a conquistare un secondo posto. Terza la compagine dei Carabinieri, seguiti da quella rappresentativa del Tribunale. Premiazione e foto di rito concludono una mattinata vissuta tra entusiasmo e cardiopalma. Poi nel pomeriggio il convegno dibattito è incentrato tutto sul tema della giustizia sportiva e del ruolo dell'informazione. A discuterne assieme al presidente del circolo della stampa Gregorio Corigliano e al revisore contabile, organizzatore dell'evento Gigi Lupo, numerosi ospiti. Prima i saluti del sindaco di Spezzano Tiziano Gigli e dell'assessore provinciale allo sport Lecce, poi gli interventi del giornalista e scrittore Filippo Veltri, del vicepresidente vicario del CONI Vincenzo Perri, del consigliere nazionale Pino Abate e del magistrato Biagio Politano. Un evento che apre le iniziative per i dieci anni del circolo della stampa Maria Rosaria Sessa e che vedrà nei prossimi mesi altri appuntamenti interessanti sul mondo del giornalismo in Calabria.